Quelli che fanno video su questo Praticamente gli hanno detto Ah vai da GameStop e fatti l'assicurazione Bla 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 Cioè gli hanno detto tutto il commento Sto qua è andato da GameStop Ha fatto l'assicurazione, ha comprato il gioco E gliel'ha rotto davanti agli occhi E poi fa Eh sì dai cambiamelo E sto qua gliel'ha cambiato E poi gli fa Ah ma quindi Cioè adesso l'assicurazione vale come prima Quindi se faccio così E lo rompe un'altra volta e gliene da un altro Effettivamente sai che quasi quasi Lo farai anch'io un giorno Giusto farò un po' di tratto Tentativo di salvataggio ok Provate e recuperate l'attacco Che bastardo Ma dove che sono? Aspetta ma dov'è che sono? Eh appunto Dove che sono? Ah sono Alla metà la In camera? Ah ok sono qua guarda Harry Vai Lucio Ce n'è uno davanti Lucio Dottimiglia Uno Allora Castle è là Ce ne sono un paio fermi anche Occhio a C4 Dai Dov'è? Lanci ce n'è uno a destra e uno davanti a me Dov'è quello a destra scusa? Qua c'è uno a destra C4 sotto i piedi No non c'è nessuno sulla scrivania Non c'è nessuno sulla scrivania L'ho ammazzato Vabbè io vado con l'ostaggio No ragazzi Alle spalle Alle spalle Io sto qua Cazzi tuoi No per voi Oh io No aspetta vado sul tetto Vado sul tetto Con l'ostaggio No Adesso lo spavento Guarda come mi cerca Guarda come mi cerca Io sto qua con l'ostaggio sul tetto Si si tu hai stascolto Adesso vado a cercarlo io al fin Guardalo come mi cerca Ma ti ha visto? È qua è qua Bellissima È tanto bellissima Era la chissà che E mo che cazzo faccio? No questa Questa dopo mi salvo il video Ci faccio la clip Mamma mia Comunque Il libera ti diverti molto di più Inca